Burda Style luglio 2023. Vuoi sfogliare insieme a me la rivista di carta modelli e scoprire come personalizzare il tuo guardaroba fai da te? Ci sono tanti abiti, gonne, pantaloni, abbigliamento sportivo che ti aspettano. Nello sfoglio della rivista di Burda luglio 2023 scopriremo come lavorare il nostro guardaroba fai da te cucitura dopo cucitura. Se hai voglia di sfogliare insieme a me questo numero sei nel video tutorial giusto. Bentornati o benvenuti sul mio canale io sono Sara Pogliese content creator e all'interno di questo video ti accompagnerò passo dopo passo alla scoperta della personalizzazione del tuo guardaroba fai da te. In info box qui sotto sotto al titolo del video che stai visualizzando trovi tutti i link utili ai miei canali social ma anche agli sfogli delle precedenti riviste Burda e trovi anche dei link molto utili per andare a vedere altri tutorial a tema Burda che ho pubblicato nel mio canale. Ma adesso concentriamoci proprio sullo sfoglio della rivista di Burda luglio 2023. Sfoglio che inizia direttamente dalla copertina, una copertina già molto fresca con quest'abito dai colori decisamente estivi e scopriremo poi anche meglio nel dettaglio quest'abito perché l'ho particolarmente apprezzato. La rivista ha tutte le prime parti iniziali di redazionale e inizia poi con il servizio dedicato all'estate chiama il colore. Con questa prima gonna il modello 103a che ha una simile gonna jeans per intendersi poiché ha una lavorazione di una cucitura centrale, una tasca lavorata che però è opzionale cioè puoi mettere questa tasca come no e un bello sprone della parte dietro della mia gonna. Perché ti dico che questa tasca la puoi usare come no? Perché se tu ricavi tutte le parti del cartamodello della gonna e anche della tasca e poi sovrapponi la parte della tasca nel cartamodello con la parte di cartamodello gonna ottieni una perfetta gonna senza pants avente davanti soltanto il taglio della cucitura centrale davanti e nel dietro questo bello sprone nel gluteo che ne salgono la figura. Per cui già da questo passaggio puoi personalizzare questo stampo e ottenere dunque una gonna che magari non abbia la tasca ma cada leggermente sbasata sia ai tessuti sostenuti sia ai tessuti leggermente elasticizzati perché ti conferiscono una buona finitura del capo. Mi spiego meglio. Se pensi di poter usare un cotone per esempio stretch bello pesante o anche un rasatello potrai gestire i fianchi della gonna in maniera più aderente e dunque sagomare maggiormente il tuo progetto. Al tempo stesso puoi anche usare un jeans o puoi usare un piquet e insomma puoi usare tutti quei tessuti che siano piuttosto sostenuti e coprenti perché così non hai bisogno di fodera. Gli shorts 129A, pantaloncino corto, pantaloncino leggero da lavorarsi in jersey di cotone, jersey di viscosa ma anche perché no in mussola di cotone oppure in lino sono uno stampo ideale da realizzarsi. Uno con la macchina per cucire, due con la taglia cuci, tre con la macchina appunto copertura. Hai tante opzioni diverse perché perché questo pantalone può essere davvero personalizzato in molti modi. Ti consiglio di andare anche sul mio canale youtube a cercare Sara Poiese shorts oppure Sara Poiese pantaloncini corti perché ti compariranno i tutorial che ho pubblicato proprio legati a come confezionare dei pantaloncini corti e quindi potranno esserti da ispirazione. Uno dei modelli che prediligo è l'abito 101, presente in questo caso in questa versione di tessuto operato come puoi vedere. Molto bella questa variante di tessuto operato perché consente all'abito di avere anche una sorta di eleganza nel fitting dell'abito stesso. Elegante, damascato, bello lavorato, ideale anche da spezzarsi. Mi spiego meglio. Puoi prendere lo stampo della gonna, separarlo dal corpino e tenere solo una gonna con due pens appena accennate davanti e due pens appena accennate dietro. Poiché la cerniera di questo progetto è una cerniera nel centro dietro avremo semplicemente l'opportunità di spostare anche la cerniera dal centro dietro al fianco. Questo fa sì che se vuoi il progetto solo gonna diventi molto anche pratico da indossare. Sia i tessuti coprenti, sia i tessuti fermi, ma sia anche i tessuti leggermente elasticizzati perché conferiscono per lo stesso principio della gonna spiegata a poc'anzi anche una morbidezza e un comfort maggiore nella vestibilità. Se invece vuoi comunque combinarlo nel top superiore, sì anche alle scelte di tessuti a contrasto. Puoi realizzare l'intero abito in tinta unita e magari solo la parte superiore in un tessuto a contrasto di un altro colore o ancora tutto l'abito in blu e tutta la parte sopra invece in un tessuto stampato blu con altri colori in modo tale da creare anche delle alternative creative. Proseguiamo il numero con la gonna 117, similare in realtà allo stampo della gonna del modello 101 perché anche qui abbiamo due pens dietro come in questo caso, però questa volta la gonna non ha due pens davanti e basta. Ha due pens davanti, dunque stessa tipologia di modello appena svasato che abbiamo qui, ma in aggiunta crea una lista bottonatura sulla pens davanti sinistra. Molto bello questo approccio per conferire anche alla gonna un look diverso. Qui ti promuovo il rasatello di cotone come ti promuovo anche lo shantum di seta che potrebbe diventare una soluzione veramente molto ideale per una cerimonia informale dove magari vuoi realizzare la tua gonna in shantung di seta, i bottoni ricoperti dello stesso shantung e ottenere così magari un bel completo abbinato anche alla giacca. La giacca pro e contro di questo modello ha una bellissima linea dal taglio princess, la giacca 104, ed è in realtà molto pratica perché ha questa mezza manica, pertanto un progetto che per le giornate calde è davvero super wow. Questo è il suo pro, essere una giacca con la manica corta, che parliamoci chiaro, in un mondo dove la giacca su misura la fa sempre più da padrona perché ci permette di essere indossata nel tempo libero, nelle attività sportive, ma anche nell'attività più chic, attività sportive nel senso posso indossare una giacca di cotone su un jeans per uscire a fare una passeggiata al lago, ma l'idea di questa giacca può diventare veramente molto geniale se la abbiniamo in un completo sia di gonna ma anche di pantalone. In tal caso ti consiglio di mixare questa giacca su un completo pantalone a vita leggermente alta. Perché? Perché la giacca deve nascondere un pochino l'attaccatura con il punto vita. In alternativa se ti piace il modello della giacca ma la vorresti solo un pochino più lunga, prendi lo stampo della giacca, allungalo di 10 centimetri e ottieni così una giacca senza collo un pochino più lunga che magari ti risulta un pochino più confacente nell'essere indossata magari con un pantalone che non è poi a vita alta ma magari a vita un po' bassina. Interessante il modello degli shorts 116 perché in realtà sono un grande classico, non li sottovalutare, qualunque sia la tua età. Se vuoi indossare un paio di shorts, il modello più classico che tu possa indossare è questo bermuda dal taglio maschile cioè classica patta cerniera davanti, tasca sul fianchetto, cinturino e passante per la cintura. Molto bello in cotone, molto bello in jeans, molto bello anche in lino, molto bello in tutti i tessuti fermi fondamentalmente però puoi anche scegliere un cotone leggermente elasticizzato sempre per il solito concetto che avere un tessuto leggermente elasticizzato ci migliora il comfort in prossimità di vita e fianco. Il servizio prosegue con questo che è l'abito della copertina perché questo tubino 119 è facile, è veloce ed è realizzato in jersey. Questo jersey operato ha come aspetto bello il fatto di avere uno scollo classico chiuso davanti ma uno scollo un pochino più aperto dietro. Nessuno ti vieta attenzione di portare lo stesso scollo chiuso che hai davanti anche nel dietro e perché no trasformare questo tubino 119 in una perfetta t-shirt se la tagli al fianco e se ci chiudi la scollatura nel centro dietro per cui vedi che puoi modificare facilmente i tuoi progetti. Questo però è un progetto che vuole solo esclusivamente un tessuto a stretch quindi un jersey opta per jersey di cotone di viscosa tutti i tessuti che desideri come tipologia di fibra pur che siano jersey bi elastici perché altrimenti non ci passi di testa e non ci passi di torace. Non la promuovo tanto ammetto ma solo per un gusto personale la camicia lunga 109 io amo le camicie però questa è eccessivamente destrutturata e a mio personale parere fa le spalle troppo ampie ma lo dico a mio personale parere perché io di mio ho una spalla molto importante quindi evito consiglio personale di scegliere cartamodelli che valorizzino troppo le spalle. Prova a pensarci se hai una spalla importante magari come la mia e già vai a mettere modelli che amplificano ancora di più la spalla sembra che tu sia un giocatore di basket o di rugby se invece opti per modelli spesso fatti a girocollo come magari la camicia che sto indossando vedi che la misura la corporatura sembra tutta più armonica a minute e composta perché perché semplicemente ho compensato l'effetto visivo di avere due spalle importanti con una linea di cartamodello che le compensa dunque questo modello io lo boccio ma solo perché non sta bene nella mia figura. Il maxi abito 102 è interessante anche con alcune varianti ossia perfetto da realizzarsi in tutti i tessuti leggeri perché perché devono poter reggere l'arricciatura questo modello è bello sia in tinta unita sia in tinta stampata sia in cotone sia in viscosa sia in lino sia in musola è bello se gli togli quei due fiocchi sulle spalle io lo so che se tu mi segui da un pochino di tempo direi ah me lo stavo aspettando che la poiese dovesse far polemica su quei due fiocchi non è polemica è solo che anche qui degustibus a me questi due fiocchi così importanti sulle spalle fanno un pochino caramella bombon da scartare quindi no però il modello maxi abito 102 in realtà è molto bello è caratterizzato proprio da questi fiocchi se non li vuoi le puoi togliere e ottiene una gonna con l'arricciatura con le valse che arriva letteralmente sotto seno per un abito stile impero andiamo invece sull'abito midi perché ha veramente del potenziale che secondo me non riesce ad essere valorizzato fin tanto che non lo realizzi tu dal vivo l'abito midi è meraviglioso perché perché ha uno scollo a v davanti ben marcato una pence seno leggermente obliqua per cui un prodotto molto semplice ma anche di buona sagomatura ha la manica che cade giù dritta ma la puoi anche leggermente chiudere per rendere la manica un po più asciutta in realtà tutta questa arricciatura sotto seno che nasconde cela l'eventuale pancetta meraviglioso il gioco di intrecci della schiena dietro perché lo puoi in realtà realizzare anche come abito per una serata importante una serata elegante una cerimonia se infatti cambi il tessuto al posto che optare per un cotone o un tessuto sportivo opti invece per una seta o per un raso potresti pensare di realizzare quest'abito per esempio in un bel raso color fucsia o in un raso color blu royal e andare in realtà ad impreziosire questa fascia dietro con due strisce di paillette di passamaneria o di pizzo o ancora potrete trasformare le maniche completamente in chiffon tutte belle trasparenti per ottenere così un risultato molto più elegante ultimo consiglio puoi anche accorciare la gonna e trasformarla così in un abito che arriva fino al ginocchio qui abbiamo le istruzioni per realizzare il progetto della gonna e passiamo all'altro servizio che hai consigli di stile con il business look ma non troppo la shirty infatti 124 viene proposta con questa culisse questi cordoncini da nodare sui fianchi e viene realizzata in felpa attenzione puoi trasformare questa questo modello in base alla scelta del tessuto che vai ad effettuare se infatti opti per un tessuto come per esempio la felpa avrai un effetto più sportivo più casual infatti business ma non troppo è il titolo perché vuole proprio smorzare il look business se invece vuoi trasformare questa felpa in un prodotto più elegante potresti realizzarla in organza lavorare comunque la culisse sotto e indossare sotto a questa sorta di shirt tutta in organza una bella canottierina di seta tutta dritta o anche perché no una canottierina di jersey completamente diritta in modo tale che tu possa avere sotto il tuo top il corpetto aderente e sopra questa sorta di shirt morbida che faccia quasi da copriabito il servizio prosegue poi con un capo che secondo me è un grande master ps perché la t-shirt 107 è molto semplice da realizzare e ha questo gioco di arricciature sulla manica davanti che è veramente bello credimi è anche un modello un po più nuovo rispetto a quelli che solitamente sono proposti dalla rivista facile da fare sta bene un po a tutte le fisicità perché è un modello molto morbido molto destrutturato è un modello che se lo vai a realizzare in viscosa stretch quindi in un tessuto leggero fluente cascante è l'ideale perché perché l'arricciatura chiama un tessuto leggero e eventualmente un tessuto leggero come la viscosa chiama la morbidezza di un capo destrutturato potresti anche trasformarlo in un vestito allungando l'orlo e aggiungendo tu una cinta in vita per andare a chiuderlo e sagomarlo i pantaculotto 123 personalmente te li sconsiglio adesso ti spiego il perché te li sconsiglio se sei alta fino a un metro e sessanta un metro sessantacinque lascia sta perché questo pantalone è troppo largo e ti taglia la figura sono sconsigliati se hai un po pancetta un po gluteo sono sconsigliati se comunque hai una forma fisica tutta un po arrotondata in realtà sono particolarmente consigliati se sei alta se sei slanciata se vuoi dare volume alla tua fisicità perché magari hai una corporatura particolarmente esile in tal caso indossati con un bel tacco possono slanciare la figura perfetti in lino ma perfetti anche in quei tessuti simil trasparenti come lo chiffon purché o la georgette purché vengano in tal caso leggermente foderati almeno almeno devi foderare l'effetto shorts quindi fare in modo che non si veda la culotte sotto dell'intimo blazer 122 lo voglio fare sarà che io amo le giacche questo blazer ha un sacco di potenziale perché perché all'interno di questo blazer hai un taglio nel centro dietro che quindi sagomerà sempre bene la figura hai due tagli princess nel dietro che sagomano come un guanto la tua schiena hai gli stessi tagli nel davanti perché se li noti sono qui il corpetto davanti in realtà è tagliato a livello estetico da questo segmento diritto di carta modello che è proprio la parte che va dalla tasca in giù molto bello se lo fai per esempio anche tutto il corpino in questo bel color peonia e magari solo la parte davanti dei due fianchetti davanti e magari il pezzetto dietro del collo lo vai a fare in un tessuto a contrasto o ancora puoi tenere in tessuto a contrasto solo le due parti basse del fianchetto davanti abbinandole ad un bottone ricoperto dello stesso colore questa giacca anche se la fai in lino foderato sfoderata che tu decida di farla sarà sempre davvero un passepartout mi permetto infatti di consigliarti di optare per le giacche anche foderate anche nella stagione estiva perché se pensi di indossare una giacca di lino che è un tessuto traspirante se ci applichi poi una fodera altrettanto traspirante magari in una fibra di cotone puoi essere in ordine con una giacca multi occasione vestendo davvero il tuo guardaroba su misura torna nuovamente un modello che fa troppe spalle secondo me che è la blusa 110 che richiama in realtà quella maxi camicia che avevamo esattamente visto in qualche passaggio precedente della rivista che era proprio questa e infatti è lo stesso identico modello solo che al posto di avere l'orlo arrotondato lungo tiene l'orlo più corto e completamente dritto quindi vigono le stesse regole secondo me ed ecco qui che torna l'abito che abbiamo visto prima in lungo che dietro aveva lo scollo con gli incroci in questo caso con la variante senza gli incroci sullo scollo per cui vedi che in questo modo può diventare un perfetto abito passepartout davvero 4 stagioni lo puoi realizzare senza maniche e ottenere così un abitino scollo a v anche per te che magari è un seno importante e quindi ami dal respiro al décolleté può diventare un perfetto abito per andare in ufficio con la mezza manica se accorci lo stampino della manica e lo fai a manica corta può diventare un perfetto abito elegante per una cerimonia se scegli un tessuto elegante e chic e lo vai a coordinare magari con una manica in organza oppure una manica in pizzo questo stampo insomma è davvero poliedrico il blues on 108 non mi piace particolarmente per il solito concetto che è troppo destrutturato per la mia fisicità però è ideale come alternativa al classico blazer se vuoi realizzare qualche cosa magari in un tessuto come il nylon con una bella zippa contrasto a vista per avere un lico piuttosto sportivo servono però tessuti che siano un attimino sostenuti da giacchio comunque da capospalla un altro capo che amo amo e ancora di più amo e non so se l'hai capito ma lo adoro è il modello 121 perché lo vado ad adorare perché in realtà nel corpetto dietro ha un taglio centrale quindi anche qui si sagoma molto bene la figura ha due pens vita vita di corpino e vita di gonna che sagomano in maniera egregia la figura e davanti a questa sorta di drappeggio che viene a sagomare in realtà il bacino l'addome è molto bello quest'abito onestamente se lo vai a realizzare in raso di cotone elasticizzato perché perché questo modello vuole un po' di aderenza nel corpetto vuole un po' di sinuosità per cui raso elasticizzato rasatello di cotone elasticizzato kd elasticizzato quest'abito è davvero un passepartout io personalmente non vedo l'ora di realizzarlo perché questo cartamodello è davvero un cartamodello passepartout lo puoi abbinare poi sopra ad una giacca chanel ad un blazer ad una giacca con il collo la puoi abbinare ad un semplice colfino di cotone come anche magari ad una camicia annodata se sei fuori in una sera d'estate a mangiare una pizza al lago e ti accorgi che poi fa un po' freschino quindi meraviglioso meraviglioso sia come capo sfoderato ma anche eventualmente con una fodera perché signori e signore parliamo pur sempre di sua maestà il tubino ecco qui l'abito 120 che è un altro capo che mi piace davvero tanto di questo numero e devo ammettere numero di luglio ho davvero l'imbarazzo della scelta su quali pezzi fare l'abito 120 bello perché perché a questo punto vita particolarmente marcato di questa gonna che è un po' sbasata e puoi anche pensare di andare a modificare tenerti solo la gonna in che modo prendendo lo stampo della gonna piegando il cartamodello in prossimità della punta che si alza e ottenendo un punto vita dritto un cinturino in quel modo tu puoi prendere lo stampo della gonna davanti lo stampo della gonna dietro fare una gonna a sé istante separarla magari aggiungendoci una bella camicetta un bel corpetto oppure puoi appunto tenere l'abito tutto intero quest'abito è veramente meraviglioso perché ha questo bello scollo davanti che si ripete anche dietro e inoltre è una finita progettazione di abito smanicato perché se ci fai caso la manica è molto cascante cioè il fatto di avere un abito senza maniche in questo caso è un ibrido perché è un abito senza maniche con la manica però coperta in maniera decisamente consona quindi è veramente una bellissima soluzione di abitino da farsi in cotone ma anche perché no in bouclé e anche soprattutto in tessuto chanel ti garantisco che questo abitino qui in chanel è veramente meraviglioso altrettanto bello in chanel la gonna 103 è la stessa gonna che abbiamo visto prima che avevo detto che avreste potuto farla anche volendo senza tasche perfetta da realizzarsi in chanel in bouclé in tutti quei tessuti anche magari pesanti operati e se puoi averlo leggermente elasticizzato meglio perché così ti sagoma bene il fianco ma se non puoi averlo leggermente elasticizzato opta per un bel tessuto chanel e avrai veramente una gonna meravigliosa qui ci sono tutti i modelli successivamente abbiamo tutta la panoramica dei modelli ma io proseguo nello sfoglio sperando di non dimenticare mai dei pezzi eccoli qui e infatti andiamo a vedere oltre alla scuola di cucito e diversi abbinamenti per la moda mare andiamo a vedere il servizio dedicato al golf perché perché viene proposto un gilet che non è interessante solo per il golf ma anche per il tempo libro in generale questo è un grande pro lo puoi fare in nylon in tessuto idrorepellente ma anche in una leggera mussola di cotone lo puoi usare forever and ever perché perché non la pensa a un colletto stile coreana ha due tasche invisibili sui fianchi è davvero super comodo puoi anche non mettere il cordino con l'elastico sotto e farlo scendere diritto finalmente torna anche la moda uomo con il bermuda modello 131 classico taglio del pantalone a uomo che qui mi permetto di suggerirti anche con questa variante provali corti se vuoi fare un capo di prova sul corto ma se vedi che il cavallo il fianco il cinturino ti vestano bene allunga lo stampo trasformali nei tuoi perfetti pantaloni di cotone lunghi e così hai uno stampo veramente ideale perché è raro che si mettano stampi così classici così evergreen e questo stampo del bermuda da uomo è davvero un evergreen che io consumerò di sicuro perché quando dovrò cucire lo stampo di un pantalone classico andrò alla ricerca di questo classico nel senso il pantalone stile dog step estivo di cotone quindi il pantalone sportivo dalla linea classica il servizio prosegue invece con lo sport dedicato alla corsa in questo caso avremo il top 126 coordinato con gli shorts 128 e i leggings 133 coordinati con lo stesso bluson 108 che abbiamo visto prima nella variante gialla qui il comune denominatore è uno tagliacuci punto copertura cuciture elasticizzate filato elasticizzato ho parlato di filato elasticizzato o filato per punto copertura nei miei post di instagram pertanto andate qui sotto in info box trovate i miei profili social andate sul profilo instagram e andate a cercare tutti i miei approfondimenti dedicati alle cuciture elastiche al filo zigzag elastico al punto di cucitura zigzag elastico al filo elasticizzato al filo per tagliacuci al filo per macchina punto copertura questo è il comune denominatore e il comune denominatore sulla scelta dei tessuti e che qui l'ideale sono tessuti tecnici bi elastici cioè elastici in orizzontale anche in verticale va benissimo la licra va benissimo la viscosa stretch vanno benissimo anche proprio tutti i tessuti tecnici morbidi e sensibili sia a tinta unita sia stampati ideali proprio tutti questi tessuti elasticizzati per quanto riguarda invece l'abbigliamento dedicato alle escursioni abbiamo i pantaloni 132 che sono ideali da realizzarsi magari in cotone o in jeans molto leggero proprio perché sono anche ricchi di tasche nei lati e nel gluteo dietro e sono dunque comodi per essere realizzati nelle taglie che vanno dall'altezza 98 centimetri all'altezza 128 per cui pantaloni per bambini facciamo un po' contenti tutti in questo numero torna la shirt 107 che era quella che avevamo visto all'inizio del servizio che vi dicevo se non è una shirt poliedrica perché queste belle arricciature davanti conferiscono una bella vestibilità la tiene a questa altezza è perfetta per essere una shirt l'allunghi diventa perfetta per essere un abitino ed è veramente fantastica in jersey che non solo è funzionale ma è anche traspirante il tutto lo puoi abbinare a questo stampo di pantaloni da realizzarsi sempre in tessuto elasticizzato allora attenzione non è detto che i pantaloni 127 tu li debba usare solo per andare a camminare in montagna anzi se questo stampo di pantalone ti piace particolarmente adotta questa piccola variante la tasca con la cerniera zip che viene posta a questa altezza non ti serve su un pantalone classico dunque prendi lo stampo della gamba superiore prendi lo stampo della gamba inferiore attaccali assieme e trasforma il pezzo in una gamba unica che cosa otterrai otterrai un pantalone che davanti in una pence aderente con la zip sul fianco dietro due pence una tasca a filetto un perfetto pantalone a sigaretta davvero dall'effetto wow questi non sono sottovalutare io me li vorrei proprio fare assieme all'abito da fare con lo scollo quadrato all'abito con lo scollo v davanti a dietro assieme alla gonna in chanel assieme alla gonna bottonata con le tasche assieme a tantissimi altri progetti di questo numero andiamo poi a vedere i pantaloni da uomo che sono simili a quelli da bambino proposti anche in questo caso con tante tasche quindi anche qui il suggerimento è quello di utilizzare dei tessuti leggeri che reggano l'arricciatura ma soprattutto dei tessuti traspiranti mi permetto infatti di consigliarti in questo caso il liocel o anche il cupro sono tessuti che sono perfetti per la stagione estiva perché sono traspiranti sono termoregolatori hanno comunque alcuni di questi tessuti anche delle fibre naturali e ti aiutano dunque a sentirti bene con qualunque temperatura proseguiamo il servizio con il servizio dedicato alla bicicletta e in questo caso con la t-shirt a 111 pantaloncini da ciclista 114 il comune denominatore resta sempre una viscosa un jersey bielastico un tessuto tecnico bielastico possibilmente anche traspirante per dei modelli veramente molto semplici e attenzione qui non ci piove devi realizzare questi progetti almeno almeno con la taglia cuci se non hai la macchina a copertura va bene risolvi comunque nel senso che puoi farne un pochino a meno per gli orli perché li lavorerai magari con la taglia cuci o la macchina per cucire con il filo elasticizzato ma io sono onesta questi progetti se vuoi che tengano bene quando li indossi devi realizzarli con la taglia cuci meglio se con la macchina a punto copertura i leggings in realtà sono un modello mixabile perché se ti piace l'effetto leggings con gondellina lo puoi tenere mentre se vuoi leggings senza gondellina puoi anche optare per rimuovere lo stampo e perché no puoi tenere questi leggings non tanto come modello per andare a giocare a tennis quanto per avere un modello utile per andare a farti una passeggiata nel tuo tempo libero una gonna che invece mi piace tantissimo è la 118 perché perché abbiamo due pence dietro un po svasata il taglio nel centro dietro che sagoma la figura e davanti queste belle pieghe che le conferiscono un perfetto stile bon ton e anche british cerca di trasformare questa gonna guardala al di là del colore bianco che ti richiama alla tennista farla magari in tessuto a quadri pensa ad un tessuto scozzese ottiene una perfetta gonna in tessuto scozzese oppure interpretala in un tessuto che sia stampato ma che non sia bianco magari un bel colore estivo acceso ottiene una bella gonna energica da combinare con una semplice pole una semplice t-shirt perché puoi indossare una gonna una t-shirt e una scarpetta col tacco tanto quanto una gonna una camicia elegante e una ballerina il servizio prosegue con lo sport dedicato al volley in questo caso andiamo su di shorts 129 che in realtà avevamo già visto all'inizio di questo servizio per cui sempre tessuti leggeri perché devono reggere l'arricciatura e la variante di pantalone meno svolazzante può essere vista anche nella versione bambino con le bermuda per bimbo 133 in modo tale che tutta la famiglia veramente in questo numero può essere accontentata praticamente sempre con gli stessi tessuti perché il giro poi sta nell'utilizzare qui tessuti tecnici leggeri traspiranti coprenti che non vadano foderati ma che al tempo stesso ci garantiscano comfort nella vestibilità poi c'è anche la sezione dedicata al surf dove possiamo optare per la t-shirt aderente in tessuto beachwear e quindi in questo caso ti consiglio per esempio la licra dei costumi come tipologia di materiali che puoi andare ad impreziosire magari con delle rouge come indosso io su questa mia camicia queste rouge molto romantiche e femminili per andare a personalizzare la tua t-shirt il numero finisce con alcuni consigli e la possibilità di creare un progettino di cucito creativo e le preview dedicate ai numeri di agosto che saranno disponibili circa da fine luglio dove intravediamo un forte ritorno di di or di coco chanel di tutta quella moda che esprime veramente una grandissima femminilità abbiamo sfogliato insieme il burda style di luglio 2023 spero davvero di cuore che questo contenuto ti sia piaciuto se è così un bel pollice alzato su questo video per farmi sapere che ti è piaciuto scrivimi qui sotto nei commenti quelli che sono i modelli che ti sono piaciuti di più andrò a selezionarne qualcuno mi concentrerò su di esso sia qui sul canale youtube che sulle stories o sui post del mio profilo instagram